Certo che abbiamo davvero degli scienziati al comune di Taranto, dei geni forse incompresi dai cittadini, ma mi trovo al quartiere Tamburi in via Bonarroti, ma tantissime altre strade del quartiere Tamburi sono state a dir poco sfregiate proprio nella loro funzionalità. Ecco vedete via Bonarroti cosa si fa? Si fa un marciapiede enorme, guardate un grandissimo marciapiede, neanche passasse chissà quale processione tutti i giorni e tutte le ore del giorno, guardate, un altro ampio spazio per parcheggiare le auto, guardate, e qui la carreggiata, il tratto di strada, la carreggiata sulla quale appunto passano le auto è piuttosto stretto, è piuttosto angusto, c'è una sproporzione mai vista tra i marciapiedi, i parcheggi e diciamo proprio la carreggiata riservata alle auto. Vorrei capire, caro Assessore Mattia Giorno, caro dirigente ai lavori pubblici del comune di Taranto, cari funzionari, qual è stata questa logica che ha ispirato la scelta, una scelta a dir poco assurda, a dir poco scriteriata, perché qui non riescono a transitare, a passare contemporaneamente due auto, ma immaginate cosa succede se per ipotesi un'auto si ferma e deve passare un mezzo di pubblico soccorso, un'ambulanza, i vigili del fuoco, una pattuglia delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, finanze, immaginate un po', ma qual è la razio, qual è la logica di avere, guardate, uno spazio enorme, enorme. Cosa dobbiamo fare qui, caro dirigente, caro Assessore ai lavori pubblici, cosa facciamo? Una festa? Cosa mettiamo? I gazebo e festeggiamo? E invece qui, guardate, guardate quella macchina, una macchina può passare, è difficile, non ne passano due, una ne può passare. Qual è la logica? C'era tanto spazio per ampliare la carreggiata, per renderla normale, non per ampliarla e invece si fa questa che per me è solo una cavolata, una semplice cavolata, guardate, guardate, boh, certo che, ripeto, ci vuole cervello ad operare in questo modo, proprio ci vuole una scienza infusa, pazzesco, pazzesco, mai vista una cosa del genere. E ripeto, non solo qui in via Bonarroti, sto parlando di via Bonarroti perché mi è stato segnalato, ma abbiamo visto anche in altre zone dei tamburi, per esempio vicino a Piazza Gesù Divin Lavoratore, il solito discorso. Noi abbiamo le rotatorie, i marciapiedi enormi e la carreggiata strettissima. Succede solo a Taranto. Beh, abbiamo dei geni, lo ripeto, incompresi però da tutta la città. Grazie. Grazie.